Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto per il mondo della televisione, nello scorse ore la drammatica notizia. E' morta la figlia della famosa VIP, tutti sotto shock. E' morta a 29 anni Anna Carwell, figlia della star del reality Shannon Momajun. La ragazza soffriva di un tumore alle ghiandole surrenali. Anna Carwell è morta a 29 anni nel tardo pomeriggio di sabato 9 dicembre. Era la figlia di Shannon Momajun, star del famoso reality sull'omonima famiglia. La ragazza soffriva di un tumore alle ghiandole surrenali. E dopo diversi mesi di dura lotta contro la malattia non ce l'ha fatta. La diagnosi del tumore al quarto stadio era arrivata nel mese di luglio. E poco dopo era iniziato il primo ciclo di chemioterapia. A dare la notizia in anteprima è stata la NBC News. I fan sono rimasti scioccati per la triste notizia, resa note, oltre che dai media, direttamente dalla mamma Shannon, con un post sul suo profilo Instagram. E' con il cuore spezzato che annunciamo che Anna non è più con noi. E' passata a miglior vita in casa, la scorsa notte. Ha combattuto con forza per dieci mesi e se ne è andata circondata dalla sua famiglia. Vi faremo avere più informazioni non appena ci diranno qualcosa. Vi amiamo e ringraziamo per i pensieri e le preghiere in questi momenti difficili. Grazie a tutti.